Intanto molto brevemente, Libra è un'associazione che nasce nel 1995 e è una rete in realtà di associazioni, di realtà anch'esse eterogene che la compongono, oltre che di singoli naturalmente e nasce sulla scia delle stragi di mafia degli anni 90 con una prima importantissima azione che è proprio quella della raccolta di firme per l'approvazione di una legge sul riutilizzo sociale dei beni confiscati e questa diventa per Libra la missione fondamentale accanto a quella della memoria, memoria e impegno sono le due parole d'ordine sulle quali si basa Libra. L'altra parte che dicevo, l'impegno concreto, tangibile e secondo me straordinario è quello sul riutilizzo sociale di beni confiscati. Sappiamo che in Italia ci sono migliaia e migliaia di beni confiscati sia beni immobili che aziende che nella maggior parte dei casi purtroppo restano dopo la confisca inattive ma in alcuni casi, grazie all'impegno anche non solo naturalmente di Libera, riescono ad essere recuperati e restituiti alla collettività appunto attraverso il riutilizzo sociale dei beni. Da pochissimo, da due anni e mezzo abbiamo avuto la prima confisca definitiva di un bene anche qui in Umbria che è un'azienda, un'ex azienda agricola nel comune di Pietralunga in un terreno che si chiama Col della Pila e sono 100 ettari di terreno, quindi anche una cosa molto consistente dei quali circa 20 ad uso agricolo coltivabili e poi per la maggior parte invece un terreno boschivo però di un legno anche tra l'altro di buona qualità. Da quest'anno invece si sono anche preparati i terreni per la semina e poi la prima raccolta che abbiamo fatto pochissimo tempo fa delle patate che sono un prodotto come sapete tipico di Pietralunga e che ha rappresentato anche simbolicamente per noi un risultato straordinario perché siamo riusciti a concretizzare il recupero e il riutilizzo di questo bene che apparteneva, che era stato appunto acquistato da una famiglia dell'Andrangheta di Reggio Calabria i De Stefano, famiglia molto potente e pericolosa naturalmente che aveva fatto appunto investimenti negli anni 80 anche in Umbria. Dicevo delle patate, è stata un'esperienza straordinaria perché poi la raccolta è avvenuta poco più di un mese fa sul terreno ad opera di volontari e volontari che sono partiti da Perugia e da altre realtà dell'Umbria insieme naturalmente al nostro presidio alle ragazze e ragazze di Pietralunga che si sono impegnati tantissimo su quel bene siamo riusciti a tirar fuori non moltissime ma comunque un quantitativo significativo di patate che poi abbiamo messo in vendita soprattutto alla Marcia della Pace e devo dire che è stato un grande successo nel senso che è stato molto apprezzato questo prodotto frutto del riutilizzo del primo bene confiscato in Umbria naturalmente Pietralunga non è l'unica situazione in cui le mafie sono venute ad investire in Umbria anzi ce ne sono molte di più noi abbiamo quasi 30 beni sequestrati in via quindi di dove c'è un procedimento purtroppo spesso lungo e farraginoso verso la confisca del bene ma possiamo dire con certezza che tra qualche anno avremo in Umbria diverse altre opportunità di riutilizzo sociale a Pietralunga come intendiamo procedere noi come Libera naturalmente non spetta a noi decidere dell'assegnazione definitiva del bene però vista l'esperienza che Libera ha noi vorremmo e ci stiamo muovendo per creare una cooperativa formata da ragazze e ragazzi del posto di Pietralunga che possa presentare poi nel momento in cui l'agenzia dei beni confiscati sbloccherà definitivamente l'assegnazione di questo bene che per adesso è assegnato al comune di Pietralunga in via transitoria possa presentare un progetto di riutilizzo complessivo di questo bene che offre molte opportunità essendo così grande ed essendo anche in un territorio assolutamente di pregio e quindi cercare di creare opportunità lavorative da una parte e dall'altra di continuare nella attività di riutilizzo sociale che quindi comprende i percorsi di formazione che noi facciamo con i ragazzi e le ragazze di estate liberi invitando familiari delle vittime confrontandoci con magistrati, giornalisti forze dell'ordine parlando naturalmente dei temi che sono propri di Libera cioè quelli della legalità, del riscatto sociale grazie a tutti Grazie per la visione!